Il prefetto di Pescara Flavio Ferdani darà seguito alla mozione approvata in Consiglio Comunale sulla necessità di schierare l'esercito sulle strade di Pescara. Il prefetto farà da tramite tra l'amministrazione Masci e il Ministero della Difesa, poi sarà il ministro Guido Crosetto a dire se in città, dal centro alla periferia, c'è bisogno anche dei controlli e dei posti di blocco dei militari. Ad assicurarlo è stato ieri proprio Ferdani durante la seduta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo ascoltiamo al microfono di Paolo Durante. Per quanto riguarda il mio impegno, quello di avviare la procedura con il Ministero dell'Interno per quello che sarà l'iter da seguire per questa richiesta che è emersa attraverso una mozione del Consiglio Comunale. Ecco, al di là di quello che si deciderà, secondo lei è il modo giusto per affrontare quella che magari è un'emergenza, cioè chiamare l'esercito? Beh, io non do giudizi su quella che è una mozione del Consiglio Comunale, ci mancherebbe. Il mio compito è di dare ricorso a questa richiesta, una richiesta fra l'altro molto articolata perché prevede che Pescara venga inserita nel progetto Strade Sicure, ma che ci sia anche un'elevazione del livello della questura e di un potenziamento degli organici. Fra l'altro approfitto di questa coincidenza per dire che nel mese di settembre arriveranno altre cinque unità delle squadre speciali dei Carabinieri, che quindi andranno a rinforzare l'organico in attesa delle ulteriori decisioni che verranno assunte.